Con il microfono che passa di mano il professor López aggiunge Buonasera a tutti, carissimi facchini e autorità sono molto felice di essere qui a Viterbo per poter ammirare questa bella manifestazione ed espressione della vostra fede per Santa Rosa Cari facchini, il vostro ruolo è molto importante perché voi siete la chiave per permettere di radicare e continuare la tradizione nel tempo Grazie per avermi invitato, buon trasporto e viva Santa Rosa! Viva Santa Rosa! Le parole di professor López Con noi le massime autorità, il presidente Alfredo Fazio consegna le targhe insieme a tutti i rappresentanti e a tutti i cittadini di Viterbo al dottor Carmelo Aronica, prefetto di Viterbo Segue la consegna della pedaglia al questore di Viterbo, dottor Gianfranco Urtis E la prossima pedaglia va al sindaco Giulio Marini Bravo, questa telecamera ti faccia tremare Al presidente della provincia, dottor Marcello Veroi Al rappresentante del sodalizio dei Bacchini Megarini, non c'è, è dietro No, abbiamo il presidente Massimo Megarini Siccome noi siamo non di testatura elevata, non sempre vediamo le persone E alla rappresentante della banca di Viterbo, dottor Migliorati Roberto, presidente del collegio sindacale Bello, bello abbronzato Abbiamo l'ultimo d'Italia che a Chiesa va consegnata a chi ha fatto molti migliaia di chilometri Il professor Lopez Morales è che è ospite della città di Viterbo, non è solo lui Lui è insieme ad altre persone che stanno costruendo la storia di Viterbo e le sue tradizioni Consegna la targa al professor Lopez Morales, delegato UNESCO Ricordiamoci che questo è un obiettivo molto importante Che la città di Viterbo si onora di poter avere È un riconoscimento per una tradizione che si perpetua ormai da molti anni, possiamo dire secolari E questo elemento è quello che permetterà di poter far sì che la manifestazione possa essere conosciuta in tutto il mondo La minimacchina, credo, perlomeno sentendo le opinioni di tutti è bellissima Per favore, prenderla da qui e riportarla da qui Ok? Siamo nelle vostre mani Non ci deludete, non mi deludete ragazzi Ho fiducia in voi, dimostratelo Evviva Santa Rosa! Evviva! Ciotti, sistematevi i cuscinetti Per favore ragazzi Per favore, iniziamo a concentrarci ragazzi Ci mettiamo 4-4-4 Di là sotto Dai! Forza ragazzi! Proviamo la posizione che ce l'abbiamo perché non l'abbiamo dato niente al nostro Provate i vostri compagni, eh! Fila B sotto! Dai! Grazie a tutti Grazie a tutti Non faccio l'indievo, faccio l'indievo Perfetto Fila C sotto Grazie a tutti ragazzi in silenzio per favore non guardate in giro non guardate in giro il attiso dai ragazzi forza guardate davanti guardate davanti allora specialmente specialmente le prime file qui dovete scrivere a me ok? perché la posto davanti poi la giriamo quando lo dico io mi raccomando soprattutto per Mila Antica la più sollecitata qui fateci forza avete il tonno noi che vincitiamo ma non ve la toffiamo perciò tutti quanti fateci forza ok? mi raccomando arriverà il sito per andarci sollevate fermi io vi mando sotto il sito non ci dà sollevate fermi pronti per sollevarla? mettetevi bene mettetevi bene insieme insieme sollevate fermi prima super stessi i partiti con il tivista avanti lentamente avanti uno uno un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.